Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. L'ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Oggi, infatti, il caso passerà al vaglio del presidente della regione Campania. Da martedì della scorsa settimana, sul tavolo di De Luca è ferma la proposta del ministro Galletti, che indica appunto il nome del sindaco di Sassano per la guida dell'ente parco. Il governatore non dovrebbe opporsi alla proposta ministeriale, perché di fatto i due partiti a cui spettava la decisione, PD e Udc, hanno raggiunto l'accordo. L'unione di centro aveva indicato il vicepresidente uscente dell'ente parco, Corrado Matera, ma le manovre delle ultime settimane hanno portato ad un dietrofront, che evidentemente sarà ripagato dal Partito Democratico su altri tavoli politici destinati alla ripartizione di incarichi. Matera, dal canto suo, esprime soddisfazione per la scelta. Pellegrino, ha riferito alla nostra redazione, è una persona che sicuramente potrà dare molto al parco. Un ente, che mi piace ricordare e ha sottolineato, è stato l'unico che negli ultimi anni, nonostante le difficoltà economiche, è riuscito a realizzare progetti utili per la crescita del territorio. La conferma che la nomina di Pellegrino è ormai giunta al traguardo, ce l'ha data il segretario provinciale dell'Udc, Luigi Cobellis, nella nostra rassegna stampa. Nel suo intervento ha augurato al sindaco di Sassano buon lavoro, a dimostrazione, se ancora ce n'era bisogno, che l'ente parco, dopo un anno di attese, avrà finalmente il suo presidente e che l'incarico sarà affidato sicuramente a Tommaso Pellegrino. Nella giornata di oggi, la proposta del ministro Galletti dovrà ottenere il via libera del presidente regionale, poi dovrà passare al vaglio di specifiche commissioni, un iter che potrebbe terminare nel giro di poche settimane, considerando che ormai c'è l'intesa e la volontà politica per la fumata bianca.